E vediamo adesso un servizio di Manolo Mureddu che questa mattina si è occupato di una locomotiva che si trova nella Grande Miniera di Serbariu. Vediamo. Oggi siamo alla Grande Miniera di Serbariu a Carbonia. Questo luogo è colmo di posti da visitare. Talmente colmo che alcuni non sono nemmeno sufficientemente segnalati. Come questa locomotiva che fu costruita nel 1926 e fino agli anni 50 serviva a trasportare il carbone fino al porto di Sant'Antioco. Come potete constatare voi stessi, l'area circostante la locomotiva sembrerebbe essere abbandonata. Questo è il passaggio obbligato per tutti gli eventuali visitatori in mezzo a dei blocchi di cemento con delle punte in ferro che potrebbero rappresentare un serio pericolo per la sicurezza. Non si capisce come mai questa trattiva così importante dal punto di vista storico e culturale non venga valorizzata e messa in evidenza.